Amiche ed amici, buongiorno! Ma come Lorenza? Sei già a fare un pranzo? Beh, questa è la mia prima colazione, sappiatelo, la prima colazione. Qua c'è tè verde, ci ho messo una fetina di limone anche, tè verde a 60 gradi. Poi cosa abbiamo? Fagioli bianchi di spagna, olè! Tonno al naturale e poi la mia insalata grusolana perché ho tagliato una fetta un po' così a caso. Poi l'ho fatta a tocchetti col coltello invece che tagliare la verza con la mandolina che mi piace bella, sottile, sottile, sottile. Questa è la mia prima colazione antinfiammatoria, ho un male al ginocchio e mi fanno male i pollici. Quindi, è anche il ranteghino, vuol dire che non va bene Lorenza, ho esagerato con qualcosa in questi giorni e ce lo so. E allora cosa fai? E allora elimino quello che mi provoca le infiammazioni, elimino lo zucchero, elimino la marmellata, elimino il riso. Perché basta togliere il glutine, ma i cereali anche senza glutine. A me il riso lo vedo, lo vedo, ma a parte anche il riso cotto, lo devo cuocere molto, molto, molto. Non fa benissimo, a parte che lo mangio di rado, però vedo che le gallette siccome le togliero molto bene, di solito, ma ho ecceduto in zuccheri ultimamente. E quindi, metto in stand-by anche la farina di castagne, non faccio davvero il legatore Savoie e non muoio. State tranquilli, non si muore, anzi, mi sono svegliata con una fame orba, infatti ieri cosa ho fatto? Ho cenato molto presto, molto, molto, molto presto, con cosa? Era lì pronta, ho cenato prima delle 19, adesso di preciso non lo so, a me i legumi non danno fastidio la sera, avevo il macco di piselli avanzato e quindi mi sono mangiata il macco di piselli con sopra le foglie di coso, scusate, di cavolo nero, condito in semplicità. Olio, ci ho messo un pochino di pepe, olio di vinacciolo e sale. Ah, ma l'olio exavergine d'oliva è meglio di quello? Noni, noni. La maggior parte delle persone che dicono quello fa bene, ma perché hanno detto l'espremuto, è che non si verificano, non si verificano sulla propria persona le reazioni. Come si fa a capire? Eh, il dottor Mozzi lo insegna, stomaco vuoto la mattina e dopo una cena parca, possibilmente nel tardo pomeriggio, una cena parca non vuol dire formaggio, vuol dire possibilmente una minestra di verdura senza la pasta. Ecco, una zuppa con le verdure adeguate alla propria persona. Ma non è scientificamente, non c'è niente di scientificamente provato per quanto riguarda l'alimentazione e il corpo, però ci sono delle prove, ci sono dei percorsi, ci sono persone che in scienza e coscienza guardano quello che accade. E se lo fanno da 40 anni e dopo aver studiato un qualcosa che era già stato subodorato, ecco lì, ecco ti hai fatto Laura, diceva un mio amico, era tutta una cosa tra una mamma e un bambino, che insomma, adesso non vi spiego, ma è un modo di dire che nel mio salone d'acconciatura si comprendeva. Ecco ti hai fatto Laura, ecco ti hai fatto Laura, ecco ti hai fatto lì. Ah, ascoltarsi, non raccontarsela, ecco bisogna non raccontarsela e spesso ce la raccontiamo. Io ascolto le persone, lo ascolto per il mio mestiere, io ho fatto un mestiere per tanti anni, per più di un ventennio, dove le persone ti dicevano A, ma intendevano B. Li voglio dorati e non rossi, voleva dire, li voglio di un berrame sparato, non lo so, lo voglio castano, in realtà, vabbè quella è una questione tecnica, li volevano biondo scuro, ma lì ci sta perché magari non sono al corrente di come viene suddivisa la colorazione da zero, da uno, non da zero, da uno a dieci nelle cartelle colori professionali. E chi gli dice, non me li tagliare, vorrebbe stravolgere tutta la capigliatura, ma non assumersi le responsabilità. Oppure, spuntali appena, è perché non vogliono pagarti il taglio, però vogliono cambiare e vogliono vedere la roba per terra. Ecco, quelli, sì voglio cambiare, però non vogliono tagliarli. E allora io dicevo, sì va bene, facciamo delle pens che poi scuciamo, ecco, sì perché bisogna un po' portare le persone a ragionare su come si manifestano. Oppure, ah questa è stata bella. Sapete quando succede che le persone non si esprimono, magari hanno delle, non lo so, hanno qualcosa nei vostri confronti e non dicono, e voi vi rendete conto che cambiano gli atteggiamenti. Noi dicono, ma sarà successo qualcosa, a voi non risulta, però notate magari dei modi un po' bruschi, ma c'è qualcosa? No, no, no. Poi, insomma, si prende la situazione in mano e dice, senti un po', qua ci abbiamo da parlare, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Vediamoci un po', stabiliamo un giorno, prendiamoci un tè, perché caffè vuol dire tagliamo la corta, una cosa dura un caffè. Prendiamoci un tè, no, bevamo un cappuccino, facciamo qualcosa. Ah, no, sì, perché tu quella... ma io sono la prima, eh, poi, che voglio poi prendere. No, infatti l'ho detto, in questo caso non sei neanche la seconda, perché avevo già accennato la cosa. Vedete, le persone a volte sono convinte di qualcosa, ma poi le ragioni, no? Ah, io so, no, l'ho seguito quella cosa lì, ma non ha funzionato. Poi, come fa spesso il dottore durante le interviste, scava, chiede, chiede, pungola, chiede, poi esce fuori che... Ah, vabbè, ma sì, due o tre volte ho mangiato quello. Ah, ma vabbè, la mattina comunque quella cosa là, poco. Ecco, vabbè, sì, però io ho una fettina a tutti i giochi e quindi non è quello, non l'hai fatto bene. Te la stai raccontando perché non ti vuoi assumere le tue responsabilità. Non vuoi provare veramente com'è? Certo, ci può essere anche, eh, che misteriosamente un qualcosa che dovrebbe funzionare poi non funziona proprio fino in fondo, ma sicuramente non fa neanche danni e quella è la cosa bella, che non provoca danni. Ma le persone se la raccontano, perché non vogliono rinunciare, ah, che ne so, al prosciuttino, alla mortazza, alla pizza, alla viola, gli spaghetti perché si fa presto, gli spaghetti quelli lì perché quegli altri costano di più, eh, 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 è una questione poi di pigrizia, di risparmio no, perché se uno ci ragiona, io spendo molto meno rispetto a tante altre persone, in frigo non ho i classici pacchetti e spesso è vuoto, o magari pieno il freezer, magari ho le verdure fresche, ma pacchettini, scatolini, barattolini che rimangono aperti, se non è quello della marmellata, i barattoli di vetro dove metto il cibo a minù, il barattolo del gatto, che cosa ci dovrebbe mai essere? Ci sono momenti dove è pieno perché ho cucinato tanto e poi magari suddivido il giorno dopo e metto via e ripongo, però ecco, spesso il frigorifero è pieno di cose che invecchiano nel frigorifero, eh, non è saggio, avere il frigorifero pieno è un po' come avere la panza piena, poi di che cosa? Batte la pesca, magari ketchup, maionese, la maionese ogni tanto la faccio, non la compro, la faccio, mia sorella è bella vegana, è venuta con la sua roba vegana, mi sono recuperata il barattolo che era carino, mi sono avuti i barattoli piccoli di vetro, ecco, per riporre e per dare in giro i cibi, così non mi devo riaspettare i contenitori che tornino indietro, poi perché il vetro si lava molto meglio della plastica, ecco fatto, risparmio acqua, stedetersivo e tempo, oh, quindi questa mattina non mi si raffredda niente se non è il tè verde che lo infondo a 60 gradi di solito e per breve tempo, così poi posso rifare un'altra infusione magari a 70 gradi e anche a 80 poi, oh, perché la parte calda l'avevo già gustata, quindi sono contenta, poi ho un'artrosi degenerativa che si era già avviata, quindi se è già parecchio avanti non regredisce, quindi devo stare attenta a non infiammarmi e purtroppo ho notato che i pollici, io ho il pollice valgo già, insomma, la vedo a mia mano che non è più quella di una volta, però per fortuna i rigonfiamenti alle nocchie si sono fermati, anzi ho le mani belle sgonfie, devo dire, abbastanza, sì, 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 però mi fanno male proprio alla base del pollice e quindi faccio fatica a prendere le cose, devo stare attenta a che poi mi scappano, perché non ho forza, sento l'affitta, a parte l'affitta, pum, cascantella la roba e non riesco ad aprire bene i barattoli, devo aprire la tannica della candeggina, devo chiedere aiuto, perché non ce la faccio proprio, mi fa proprio male, non ce la faccio, poi le stringono in un modo, ma che lavoro è? Lì non posso farlo col cucchiaino come si usa fare col tappo dei barattoli, tipo la marmellata, sono una ghiotta, mannaggia a me, sono proprio una ghiotta, eh lo so, la marmellata se la mangio con le uova, le metto proprio un velo, quando faccio l'omelette, invece con le gallette, una, due, tre, quattro, mannaggia, non va proprio bene lo zucchero, non va bene la marmellata con la galletta di riso, non va bene, forse è stata una galletta di quinoa, invece sì, però non le trovo, spesso devo andare a Viterbo, ma figuratevi, allora, sono contenta, ma te l'este messa? Sì, sono contenta perché già da, con la cena parca, e che non ho messo in bocca nient'altro, se non ho un infuso poi una certa ora, senza aggiungere miele, niente, ecco fatto, che sono arrivata al mattino con affame e orva, perché ho mangiato prestissimo, anche se è bello sostanzioso il macco di piselli, insomma sono proteine, poi alla fine non solo fibre, mi sono trovata con una fame che avrei mangiato anche i menù, dopo una nottata, una delle peggiori che ci ha fatto fare oreste, proprio in casa ha continuato a miagolare, sono dovuta uscire alle quattro, sono dovuta uscire alle cinque e mezza, cioè io due ore filate di sonno non le fo, perché fino alle quattro ha dato il meglio, adesso è comunque un po' viene da me, un po' si mette a frignare sotto al letto, e poi vuole che gli si rabbocchino i crocchi, uno dice non gli dai retta, sì, gli ho tirato una ciabatta, gli ho tirato la seconda, lui aspetta la seconda, sa che la seconda sono proprio arrabbiata e scappa giù per le scale, non gli faccio niente, sono le crocs, finte tra l'altro, e consunte, sono davvero consumate, e sto vizio che deve essere tutto a posto, ce l'aveva, gliel'ho ravboccato, ha mangiato, si è quietato un po' in fondo ai piedi del mio letto, poi ha ricominciato a sniarare, a sniagolare, poi cambia tono, fa il peripatetico, e l'ho fatto uscire, adesso sta fuori, ma io e la mia non siamo KO, ma veramente, è agitato, litiga con tutti, ti guarda con quel muso da guffo, perché poi fa il faccione da guffo, piega gli occhi, sembra un guffone cattivo, non deve fare, non lo so come mai fa così, non lo so cosa ci hanno da agitare, ma sono anche gli altri gatti agitati in questo periodo, c'è il vento, anche oggi vedo che si muovono le fresche frasche degli ulivi davanti a me, il cielo è grigio, non è blu, il cielo è grigio e non è blu, no, è come ieri, ha messo pioggia in tarda serata bene, perché la campagna è asciutta e richiede acqua, io ho annaffiato, anche ieri ho dovuto annaffiare, perché poi col vento la terra si è disidratata, ho messo dei germoglietti in giro e vado a prenderla in piazza, c'è una fontana, acqua non potabile e poi contribuisco a mantenere sano l'ambiente, se ci sono le piante, le piante devono bere, le piante fanno bene l'ambiente, mantengono l'aria pulita, vi danno l'ossigeno, che togliete gli alberi perché sporcano, ma io non ho parole, anche qua lo fanno, quell'albero sporca e si taglia, ma io sapevo che l'albero pulisse, perché ti dà l'ossigeno, ma gli alberi sporcano, io quando sono stata l'ultima volta a Conegliavo della mia amica, davanti casa, c'erano queste casettine basse, queste villette con ognuno nel suo giardino, tutte ordinate, come sono ordinati i veneti, e almeno lì nei dintorni, e c'era questo signore che usciva la mattina, oltre prima spazzava in aria, come? Eh no, c'era sto rumore, le foglie dagli alberi le faceva cascare, perché sennò poi sporcavano, era bello vedere le foglie cascare, prendere l'astrello e l'ordunale, 4x4 di giardino, non è che stiamo parlando di che, e poi dico, ecco, ecco fatto, stufo tutti i giorni a buttare giù le foglie, si spazza, si lava il marciapiedino davanti casa, oh mamma mia, eh vabbè, sono nevrosi anche quelli, non voglio essere precisi, quindi ora mi mangio il mio bel piatto di fagioli bianchi di spagna, conditi con un filo di olio di vinacciolo, non ci ho messo il pepe, no no, stamattina sono brava, ma quanto è buono il pepe sui fagioli, c'è un po' di insalata, è anche sotto al tonno, mi mangio questa cosa, ma a pranzo allora poi cosa ti mangio? Il resto mi mangio, allora che c'ho oggi a pranzo? Oggi a pranzo, aspettate che non me lo ricordo, perché ho roba cotta, ma non me lo ricordo, cosa mi sono preparata più per oggi? Ui mamma mia, ah sì sì sì, allora, oggi, sai cos'è? Allora, oggi ho il cavolfiore, e me lo faccio con un uovo in camicia, poi invece questa sera, ho una minestra di verdure varie, buona, buona, buonissima, che l'ho passata anche al mio vicino di casa, che è recluso in casa, le lascio le cose tra i vasi, le mando il messaggio, recuperati, gli ho lasciato una cassetta di legna grossa, che io per adesso, ce l'ho per il caminetto, poi non lo accendo, quindi, gli ho fatto una cassetta con la legna per il caminetto, perché non ha dove scortarsela, e sto che gli fa compagnia, poi è un po' che legge, che fa, e quindi ho fatto questa cassetta con quattro pezzi per il caminetto, la legnetta per accendere, ecco, gli ho messo anche schegge, scheggete, e rametti già piegati, non ci ho pensato, chiedi se aveva, ma ce l'avrà avuto un po' di qualcosa, un po' di carta, un po' di alcol, non l'avrebbe chiesto, no, non chiede, e quindi gli ho mollato un barattolo grande di minestra buona, buona, buona minestra, ecco, e così che si fa, rio melaceto ce la fa, e quindi ecco, ho fatto la mia pranzo di oggi, domani, domani, domani ancora pesce, finché io ho le mie mani in queste condizioni, il mio ginocchio che sta già meglio, già meglio rispetto a quando mi sono svegliata, ho bisogno di camminare, quindi poi adesso brinchio la minù, la vesto e andiamo, sì, la vesto come i bambini, vieni dalla mamma, quando viene la Camilla, chiamo lei minù, il cane lo chiamo Camilla ovviamente, cosa vi credete, oh, sono contenta, anche perché avevo promesso di andare a letto presto, 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 oh, e invece è stato tardi, tardi, oh, non tardissimo, ecco, non ho fatto le due, non ho fatto le tre, perché a volte dico non vado a letto, perché tanto poi se mi addormento mi tocca rialzarmi subito, perché il mio gatto, e gli voglio bene al mio gatto, ma io, io veramente, adesso gli leggo la cota, gli faccio un nodo, gli faccio un dispetto, gli do un morsi dalle orecchie, cosa devo fare, miau, poi, quando fa il patetico, dal mio, dalla mia testa, poi quando sa che mi arrabbio, continua a miagolare da sotto al letto, poi salta in cima, al comò, e così la minù urla come una iena, poi si fa le unghie sul mio puff, manco gli mancassero gli alberi, e vabbè, e vabbè, comunque domani sarà pesce, allora domani vi faccio il nasello, il nasello con una patata lessa, o più patate lesse, mi piacciono le patate lesse, quelle non mi fanno male, quindi patata lessa, il nasello, e domani, cosa ci metto vicino? Allora, a pranzo ci metto la verza di nuovo, invece che rossa, taglio quella bianca, alla voi la borsa rossa, prendi quella bianca, ma ti piace la borsa gialla, prendi quella blu, o viceversa, ecco, e quindi domani sarà quello, patata, pesciolino, e, l'ho detto adesso, la verza, il cavolo cappuccio bianco, poi la sera, beh, la sera, ho la verdura cotta, quindi ho i decimi di rapa, ho i broccoletti siciliani, ho i broccoletti, e, mi ci risbatterò un uovo domani sera, se ho tanta fame, non toccherò galletta, non toccherò niente, sarò brava, di tornero smunta, no, vabbè, no, per fortuna ho una buona massa muscolare, quindi, però, ho la mia pancettina morbida, da donna, in gravidanza, da donna meno pausa, da vent'anni, però un po', oh, sono contenta, dopo venti minuti vi parlo di filo, allora, qua davanti ho quello che ci ho lasciato su sto tavolo, infatti oggi pulisco il tavolo, smonto le cose, metto a posto la roba, tipo, vedete, la pattern stampati, il mio librone, quello della maglia, quello bello, dove si mettono le misure, tutto, quello di Tiger, come riguarda la mia bambina, devo mettere a posto i circolari per gli incontri, ah, sì, preparerò dei kit meravigliosi, sì, sono in vena, sono in vena di ripetere le mie belle esperienze di chiacchiera, poi qui, vedete, devo mettere a posto il, ho sporcato anche il tavolo, devo mettere a posto il botto avanzato dal bomber di Camilla, mi è venuta voglia di fargliene un altro, oh, sì, ho voglia di fare un altro bomber alla mia bambina, e, io lo voglio fare con il colletto quello a listino stondato sul davanti, io lo voglio fare con le maniche a giro gonfissime, proprio gonfie, 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 voglio dei bei polsi, non glieli farò alti, ma belli stretti, sì, quindi mi andrò a studiare una costa, mi vado a studiare una bella costa dalla signora di Astiolo, eh, e, quindi farò il bordo alto, sempre, sì, no, il bordo in vita glielo faccio alto perché sta carina la Camilla, ma glielo voglio fare gonfio, 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 devo decidere poi con quale filato, e, bene, sono contenta, mi parlo di Sirio, eccolo qua, ho lavato il campioncino, vedete, io uso le maniche, un dolore qua ragazzi, ma è anche, un gonfietto, sono stata stupida, perché, sì, ho iniziato a mettere l'arnica, per carità di Dio, mi prenderò i granuli di arnica montana, sotto la lingua, perché, come loro, nessuno niente proprio, altro che antinfiammatori, e, e la smetto con lo zucchero, però sto già pensando che oggi è la festa del papà, eh, ragazzi, oggi San Giuseppe, il 19 marzo, è la festa della mia città, ecco, è anche la fe, è anche il patrono d'Italia, è della chiesa, è della chiesa, il nostro San Giuseppe, che bella figura che è San Giuseppe, è della chiesa, la questione è la mia città,